bello a tutti ragazzi per il mio nuovissimo video oggi mi dispiace non ho cantato ma oggi vi ho portato lui ciao ragazzi lui è lo youtuber di cui parlavo ieri nel mio scorso video dove dobbiamo rifarlo rifare video che è una bomba assurda e mi fa morire da risate allora t'accordo con lui che ci vuoi dire signore niente come niente beh ha detto ah io ho qualcosa purtroppo il mio canale è stato cancellato perché avevo 10 iscritti e alcune persone non piacevano i miei video e stavano già iscritti io ho deciso di cancellarlo allora noi ti faremo di aprirlo con più iscritti con più visualizzazioni con più tutto quindi cominciare subito a seguire giovanni paladino mettiamo il link in descrizione dopo facciamo tutto insomma in realtà io ho cambiato il nome e allora come ti chiami super zeus adesso andiamo a cercare tutti super zeus link in descrizione dopo di che parliamo come io ho tanti ospiti devo fare di tre domande la prima domanda che sport fai calcio da quanto tempo cinque anni sei forte abbattenza dovevo in attacco ti avevo numero cinquantanove proprio schifo vabbè la ultima domanda ma chiede il pubblico di youtube ma ti vogliamo rivedere su youtube va bene ricordatevi eh super zeus solo su youtube allora se noi arriviamo a 10 iscritti io ho fatto una fila speciale con questo e io accetto la sfida allora arriviamo a 10 iscritti su super zeus e la facciamo che sfida facciamo quello che ti pare è una sorpresa però è una sorpresa allora diciamo 10 iscritti con la challenge io oggi ho fatto un video super zeus e sono felice di averla avuto qui sul mio canale e chissà un giorno se andiamo per noi per noi per noi sul suo canale e ci divertiremo a bestia alla grande e quindi questo video è un video quello che sta dicendo lui se non arriva a 5 mi piace se fa un torneo a bigliardino io e lui insieme contro tutti gli altri vecchi anziani pigioni cani gatti oliver miele tutti ci mettevo è una vita molto speciale e quindi ora abbiamo detto tutto questo video può finire e io vi mando un bel salutone un abbracchione e ciao gente ciao 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 ciao